Il caso è Rosa Capuozzo, sindaco di Quarto e Cerdinando Imposimato e Roberto, lo sapete l'autore di Gomorra, Rosa Capuozzo tra Ferdinando Imposimato che la difende e Roberto, l'autore di Gomorra che ne ha chiesto le dimissioni. Il fatto è che Roberto, l'autore di Gomorra è stato condannato per aver copiato, è stato condannato da un tribunale, mi pare che deve pagare 60.000 euro per aver copiato, invece Ferdinando Imposimato non ha mai copiato e per cui la parola di Ferdinando Imposimato che non ha mai copiato dovrebbe valere di più della parola di Roberto, l'autore di Gomorra. Però mi dispiace che Beppe Grillo e Ferdinando Casaleggio abbiano preferito ascoltare Roberto, Roberto Saviano, l'autore di Gomorra che ha copiato, anziché ascoltare Ferdinando Imposimato e poi potevano ascoltare anche Serafino Massoni, ma che Serafino Massoni non l'hanno degnato manco di una parola e hanno voltato le spalle pure a Ferdinando Imposimato. Hanno dato retta a Roberto Saviano che è stato condannato per aver copiato. Beh cari amici, io sono molto triste, sono molto molto triste, mi dispiace tanto per questa vicenda e mi meraviglio tanto che un personaggio come Roberto Saviano che è stato condannato per aver copiato e condannato da un tribunale italiano sia ancora tanto celebrato in Italia e sia celebrato tantissimo dal Movimento 5 Stelle, ma caro Movimento 5 Stelle non si deve celebrare uno che è stato condannato per aver copiato. Era meglio ascoltare Ferdinando Imposimato, non è mica l'ultimo arrivato Ferdinando Imposimato e poi c'è anche Serafino Massoni, capito? C'è anche Serafino Massoni. C'è tanta tristezza nel mio cuore cari amici, tanta tristezza, tantissima tristezza, perché per me Ferdinando Imposimato vale molto di più di Roberto, l'autore di Comorra che ha copiato, però che ha copiato e poi ci sono pure io, ci sono pure io cari amici, vabbè c'è tanta tristezza nel mio cuore. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni. Grazie.